Gennaio si distingue per essere stato il mese che ha fatto registrare il maggior numero di visitatori da quando il castello di Donna Fugata Ragusa è stato aperto al pubblico. Un incremento di visitatori di ben 900 unità, pari al più 59% rispetto allo stesso mese del 2019. È un buon segno, ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì, che conferma l'andamento registrato dall'estate in avanti e la bontà delle scelte finora effettuate. Il 2019, sebbene generalmente considerato un anno di crisi per il turismo siciliano, ha visto Donna Fugata in grado di mantenere i livelli precedenti di presenze e anzi andare contro tendenza sviluppando un lieve incremento grazie alle sue aperture serali. Questo inizio 2020 fa bene sperare per il proseguio dell'anno. Il castello di Donna Fugata, aggiunge l'architetto Nuccio Iacono, torna a registrare un incremento di visite nei periodi di bassa stagione turistica dovuto alla presenza di numerosi gruppi provenienti da fuori città e fuori provincia. Si tratta di istituti, enti, associazioni, club service fidelizzati. Si tratta di gruppi che tornano a visitare il castello e il suo parco per riscoprirne la bellezza attirati dalle mostre tematiche allestite a rotazione. Sono stati diverse centinaia i visitatori che ho avuto l'onore di accogliere e accompagnare lungo il percorso di visita sia all'interno che all'esterno dell'antico maniero di proprietà comunale.